Ciao a tutti! Ciao a tutti! Oggi ho un nuovo casco da bici da farvi vedere. Si tratta di un casco da mountain bike che ho ricevuto dalla High Glow e che trovate in vendita su Amazon. Dopo averlo provato per alcune uscite, per quanto riguarda la leggerezza e la comodità, lo trovo sicuramente un buon casco. Essendo però un casco importato dalla Cina, ho sempre un po' di dubbi sulla sua robustezza, nonostante si è indicata l'omologazione agli standard europei. Questi tipi di caschi più economici li reputo un buon compromesso per chi usa la bici in modo non intensivo o per percorsi poco tecnici, mentre negli altri casi è sicuramente necessario orientarsi su caschi di marche europee con qualità e garanzie superiori. Questo casco al momento si trova in vendita sui 40€ e sinceramente lo trovo un po' caro per la qualità e per quanto detto prima. Esteticamente è ben fatto, mi piace sia come linea che come scelta di colori. Un po' come tutti i caschi, l'interno è in poliuretano espanso, un materiale molto compatto ma non troppo duro, così da assorbire bene gli urti, mentre la parte esterna è in policarbonato rigido. Il lato posteriore scende per coprire anche la parte bassa della testa, mentre davanti è montata una lunga visiera molto utile nelle giornate estive e con tanto sole. La visiera si può anche rimuovere facilmente, basta prima sollevarla e poi si svitano le viti laterali. All'interno è presente una morbida imbottitura, molto comoda con una rettina per impedire il passaggio di insetti e foglie. L'imbottitura dovrebbe essere rimuovibile per poter essere lavata, ma cercando di staccare il velcro in diversi punti viene via anche l'adesivo. Visto il prezzo di vendita mi aspettavo un po' più di cura in questi particolari. Qui, come detto, sono riportate le etichette con le certificazioni. Il simbolo CE che dovrebbe stare per Comunità Europea in questo caso mi lascia più di un dubbio, perché non è scritto con i classici caratteri, sembra più il China Export. È presente però anche la certificazione alla norma europea sulla sicurezza, la CE EN 1078. Il casco è comodo e si adatta bene alla testa grazie alla regolazione posteriore e a queste due laterali sotto alle orecchie. È naturalmente regolabile anche la lunghezza della cinghia sotto il mento. Per concludere devo dire che non mi ha convinto tanto questo casco. Se lo trovate in offerta può allora essere un'alternativa per chi usa ogni tanto la propria bici, giusto per fare dei giri tranquilli. Mentre a prezzo pieno sicuramente si può trovare qualcosa di meglio e di marche più conosciute. Spero che la recensione vi sia stata utile. Se avete qualche domanda potete sempre scrivermi nei commenti. Se siete interessati a seguire i miei prossimi video ricordatevi di iscrivervi al canale con il tasto qui sotto. Saluti a tutti e alla prossima recensione.